Musica Nuovo appuntamento con il TG Flash di Teletruria, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Subito in apertura la cronaca. Un'aggressione in piena regola è quella che si è consumata questa mattina all'ospedale San Donato di Arezzo ai danni degli operatori della radiologia. È successo al gabbiotto dell'accettazione. Un uomo in stato di alterazione per futili motivi si è letteralmente scagliato contro gli operatori che stavano lavorando, riuscendo anche a strappare i capelli di uno di loro. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia retina che hanno subito identificato l'uomo. Ancora la cronaca con una movimentata operazione antidroga compiuta dai carabinieri nel centro di Arezzo. In manetta è finito un 25enne. Vediamo il servizio. Vede i carabinieri e scappa tentando di nascondere la droga che aveva con sé. I militari lo inseguono e lo arrestano dopo averlo rincorso lungo le strade del centro. È accaduto nella zona di Piazza Sant'Agostino ad Arezzo. L'arrestato è un uomo di 25 anni disoccupato. I militari impegnati a presidiare la zona con le motociclette lo hanno visto muoversi in modo sospetto mentre parlava con alcuni tossicodipendenti. Hanno quindi tentato di controllarlo ma il 25enne si è dato alla fuga gettando in terra un calzino al cui interno erano nascoste 18 dosi di eroina già confezionate. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di altre pattuglie. La perquisizione personale ha permesso di recuperare altre tre dosi della stessa sostanza e 475 euro provento di spaccio. Il giudice del Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto e condannato il 25enne a due anni di reclusione. Dopo una doppia commemorazione, quella del Presidente Merito Giorgio Napolitano e di Stefania Lachini, figlia di un ex dipendente, questa mattina il Consiglio Comunale Aretino ha ricevuto Alessandro Dioni, il giovane studente del Liceo Classico di Arezzo, a cui il sindaco Alessandro Ghinelli ha puntato sulla giacca la spilla distintivo del Comune per il gesto eroico riconosciuto tale dalla stessa Presidenza della Repubblica che ha salvato la vita ad un cinquantenne in arresto cardiaco. Dunque un nuovo riconoscimento per lui. Cambiamo argomento. Noi ancora un nulla di fatto a Roma per la futura stazione Medio Etruria. Il 19 ottobre potrebbe essere la data chiave. Intanto si registra un passo di Italo che ha sottolineato la necessità della stazione. Servirà un nuovo incontro del tavolo tecnico per capire se questa benedetta stazione Medio Etruria si farà. La fermata dell'alta velocità nell'Italia centrale sta diventando il gioco del rinvio in una sorta di partita scacchi dove tutti cercano la mossa per lo scacco matto. A Roma erano presenti delegazioni della Toscana, Umbria, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia Italo e ovviamente i padroni di casa del Ministero delle Infrastrutture. Rigutino da una parte e Creti dall'altra sembrano essere le soluzioni più concrete mentre in netto ribasso sono le quotazioni delle Treberte nella Valditiana senese. Creti è abbastanza vicino allo svincolo della Perugia a Bettolle mentre Rigutino è quella che ha i parametri migliori rispetto ad altri che esigono come sia elevato l'accesso gomma-ferro senza tralasciare i bacini d'utenza, i tempi di percorrenza, i costi di realizzazione e le dotazioni infrastrutturali. In definitiva sarà poi la politica che dovrà dire l'ultima parola. La Toscana ha l'opzione Rigutino che di recente ha incassato anche l'appoggio dei comuni dell'Umbria del Nord. Su Creti, oltre al comune di Cortona, spingono anche la regione Umbria e da poco anche Siena. Vedremo se il 19 ci sarà la fumata bianca. In occasione dell'incontro recente alla Borsa Merci organizzato dalle Acli sull'economia toscana il Presidente della Camera di Commercio, Guasconi, non si era sbilanciato. Chiediamo e cercheremo, voglio dire, di essere in qualche modo anche dirimenti sulla decisione perché ancora purtroppo quello che non abbiamo è la dichiarazione che la stazione verrà fatta perché questo è l'obiettivo a cui ovviamente tutti noi tendiamo. Il Consiglio regionale toscano dice sì all'adozione del nuovo piano dei rifiuti. Favorevoli PD e Italia Viva, contrarie tutte le opposizioni. Superamento delle discariche, raccolta differenziata che entro il 2023 dovrà raggiungere l'80%, individuazioni di alcuni impianti innovativi, autosufficienza di ogniato, sono alcuni dei punti principali del nuovo piano dei rifiuti adottato a maggioranza dal Consiglio regionale al termine di un intenso dibattito in aula. Favorevoli PD e Italia Viva, contrarie tutte le opposizioni. Adottare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale. Siamo anche in una fase transitoria perché poi questi impianti, anche se pochi che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Il confronto prosegue, ci sono infatti 60 giorni di tempo dall'approvazione del piano per la raccolta delle osservazioni. Cooperazione con questa modalità, il nuovo direttore Marzia Sandroni lavorerà nella zona distretto sociosanitario del Casentino. La dottoressa Marzia Sandroni è il nuovo direttore per la zona distretto sociosanitario a Casentino ed ecco come si muoverà in questi primi mesi, in un territorio che si inserisce in un'area marginale dove le distanze, parlando di salute, sono importanti, dove la popolazione è frammentata con l'età che avanza e dove i servizi sono essenziali per il mantenere i presidi e stabilizzare giovani famiglie. Ho trovato un grande senso di appartenenza e operatori che hanno voglia di fare, che sono ben consapevoli di quelli che possono essere i bisogni di questo territorio. Non credo che manchi qualcosa, credo che si possa sempre migliorare, chi mi ha preceduto ha lavorato già molto bene, per cui cercherò di lavorare in modo più attento possibile a quella che è proprio l'integrazione con il territorio, all'integrazione tra gli operatori, la cooperazione con tutte le istituzioni a partire dai sindaci, dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, ma con l'unione dei comuni per quanto riguarda il sociale, ma non solo con loro. Noi dobbiamo essere attenti come territorio, come anche ci dice il DM77, a quella che è una costruzione di alleanze che ci permettano di far sentire nel territorio, così come in ospedale, il cittadino al sicuro. Mentre sulla sanità siamo noi che in particolare dobbiamo occuparcene, la salute dobbiamo farla insieme, su cui io mi vedrò impegnata in questi primi mesi. È proprio questo, creare un rapporto con le farmacie, con le associazioni del terzo settore, con le associazioni di volontariato, di categoria, con la scuola, con i sindacati, come dicevo poi oltre che naturalmente con i sindaci, con cui la collaborazione sarà continua e strutturata ed è già iniziata. La scrittrice e psicoterapeuta Barbara Fabbroni si è raccontata ieri al Pietro Arettino dopo aver vinto il premio Starlight, ideato da Giuseppe Zaccaria e Francesca Rettondini, presenti alla serata. Un appuntamento di rilievo importante qui al Pietro Arettino perché reduce dal successo di Venezia, abbiamo qui la nostra concittadina Barbara Fabbroni, allora quanto ti ha emozionato questa vittoria? Beh tantissimo, come ho avuto modo di ripetere, anche perché ricevere il premio Starlight è veramente una tappa fondamentale e importantissima, anche perché chi conosce il premio e sa l'amore che c'è dietro dei due fondatori non può che emozionarsi. Io devo essere sincera mi sono commossa perché comunque ho trovato veramente tantissima forza, tantissima determinazione ma soprattutto tanta tanta professionalità che oggi è molto raro. Essere qui nella mia città dopo tantissimo tempo devo dire che mi preoccupa un po' però insomma ci sono loro che mi fanno da angeli costodi. Insomma preoccupa sempre un po' essere ad Arezzo, Francesca Rettondiene è una delle ideatrici, fondatrici del premio. Fondatrici del premio insieme all'ufficio stampa Giuseppe Zaccaria e siamo anche noi onoratissimi di essere qui. Lei dice così, ci siamo veramente emozionati insieme, è come stare ormai in famiglia, diciamo che si sente quell'area familiare con noi e noi con lei allo stesso modo, quindi ci stiamo legando devo dire la verità. È una cosa importantissima e bellissima perché le emozioni sono importanti nella vita. Da Arezzo andiamo ad Anghiari, da venerdì a domenica torna il Festival dell'Autobiografia, evento promosso e organizzato dalla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Vediamo. Ad Anghiari si avvicina il fine settimana della LUA, la Libera Università dell'Autobiografia. Un weekend, quello dalla 29 alla 1 di ottobre, sono i 25 anni dell'Autobiografia. Sì, devo dire che ormai la Libera, dunque l'Autobiografia di Anghiari riesce sempre più a investire sulla propria immagine, sui contenuti, sui rapporti che naturalmente ormai si è creato un gruppo di persone che è qui a Anghiari, ma anche una rete su tutto il territorio nazionale. Possiamo dire che questa è un'edizione speciale? Sì, l'edizione speciale perché quest'anno sono 25 anni di vita dell'Associazione e di presenza ormai consolidata in questo territorio, ma anche nel territorio nazionale. Quindi è una festa ancora più grande, se vogliamo, perché il progetto nato grazie all'incontro tra Saverio Tutino e Duccio Demetrio ancora vive. Va a cogliere quel desiderio che ormai mi sembra diffuso di incontrarsi con la propria storia attraverso la scrittura. Anche in questa occasione siamo veramente orgogliosi di essere presenti in questo 25esimo anniversario a dare il nostro aiuto a che questa manifestazione si rinnovi e continui ancora per lungo tempo. Con il Festival dell'Autobiografia di Anghiari termina questa edizione del TG Flash di Teletruria. Questa sera, dopo il TG delle 20.30, torneranno le nostre rubriche Newsline dentro la notizia e poi 9.10 dedicato all'incontro tra la fisica Gabriella Grayson e i bambini delle scuole per raccontare di sei donne che hanno cambiato il mondo. Poi la serata proseguirà con il film Lezione di Pittura per la regia di Pablo Perelman al termine. Il consueto appuntamento con in compagnia di Alessio. Termina qui il TG Flash. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.